E' messa a repentaglio la democrazia, è un atto lesivo del ruolo dell'opposizione. Questo è il commento dei consiglieri Alberto Santorelli di Progetto Fano e Davide Del Vecchio dell'Udc che sono stati diffidati dal Consiglio di Amministrazione dell'Aset Holding per un'interrogazione urgente che avevano presentato il 13 aprile scorso intitolata «Quale fusione fra le due Aset?». In sostanza i consiglieri affermavano che la società stava lavorando con l'advisor per far ribadire l'impostazione della fusione proponendo l'incorporazione della spa nella holding. Lunedì poi Santorelli del Vecchio hanno ricevuto la comunicazione da uno studio legale con la quale vengono intimati a rendere noti entro cinque giorni i nomi delle persone che sono state fonte delle informazioni riservate e ricevute oppure di attribuirsi la paternità delle elezioni prive di alcuna base di conoscenza. Questo è un attentato alla democrazia, è una cosa assurda, mai vista. Noi abbiamo chiesto l'intervento del Prefetto per questa questione. Abbiamo sinceramente avuto anche molti riscontri positivi da tanti nostri colleghi consiglieri e ci auguriamo che il Sindaco e il Presidente del Consiglio prendano atto di questa grave situazione che si è venuta a creare e adottino tutti gli strumenti necessari perché si torni alla legalità, alla trasparenza perché lo voglio citare, è stato il punto per cui abbiamo fatto l'interrogazione, la trasparenza e quindi si torna alla serenità all'interno del Consiglio Comunale perché questa è una cosa assurda. Se questo non sarà, noi siamo anche disponibili ad incatenarci davanti al Comune perché si stanno veramente usurpando, mettendo sopra tutte le libertà fondamentali che sono garantite dalla Costituzione ma anche dall'essere eletti all'interno del Consiglio Comunale. Che cosa chiedete e che cosa vi aspettate adesso dal Sindaco di Fanno? Innanzitutto che governi la città, quello che oggi ci pone davanti al dibattito è un cortocircuito istituzionale provocato dal non decidere e dal non governare la situazione da parte del Sindaco. Deve essere fatta la fusione per i cittadini, per migliorare i servizi cittadini, per abbassare le tariffe e i costi a carico della collettività e dei cittadini e non per difendere lo status di qualche dirigente o di qualche funzionario. Quella è la missione che deve avere chi deve fare la fusione e noi vogliamo garantire questo. Per questo siamo stati diffidati, questo è inaccettabile. Il Sindaco prenda di mano la situazione, prenda tutti i provvedimenti necessari perché altrimenti darà dimostrazione che in questa città non è possibile né fare politica né candidarsi a fare i consiglieri comunali e che vige un regime di lassismo che è la cosa peggiore in assoluto che mai era accaduta nella città di Fanno. Il consigliere di Forza Italia Stefano Mirisola definisce la diffida una vergognosa censura al lavoro dei consiglieri comunali che sono chiamati a rappresentare la città. Mirisola propone distilare un documento sottoscritto da tutti i consiglieri con cui chiedere al Sindaco di riprendere il CDA di Aset, mandatario della missiva, e sollevarlo dall'incarico. Per Andrea Montalbini, segretario di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, l'episodio mina le regole base di democrazia e trasparenza e questo per Montalbini mostra solo che Seri non comanda più visto che le decisioni nella città della fortuna detto le prendono Cerescioli, Matteo Ricci, Renato Claudio Minardi ed ora pure l'Aset.